Sarà capitato anche a voi di avere la DSL, la DSL in famiglia, il padre si connetta alla fibra, il nonno con pasto e la mamma wifi. Eeeh tutta la cricca signor Andrea, ce l'ha fatta, ma cosa sto vendendo signor Andrea? Pronto? Si chi parla? Cosa va a vendere? Si chiede a lei giostre? Inserire il gettone? Spengo? Spengo? Eh spenga signor Andrea, spenga, spenga, spenga. Signor Gigi, non ti sa, dell'ultimo minuto, è venuto qua, che vero, tu sei un'altra, no ma mi dica che vero, sono andato io, la farmacia qua, via canella e la farmacia a porco, ma perché lì no, non stavano andato alla farmacia da Dottor Mucci, meglio, da Dottor Mucci, ecco, allora c'era questo carabiniere, gli ha detto vorrei uno shampoo, e il farmacista Dottor Mucci gli ha detto che shampoo vuole, shampoo per capelli secchi, per capelli lunghi, per capelli biondi, per capelli grassi, per capelli mossi, e il carabine gli ha detto, ma non ne ha uno shampoo per, per capelli sporti signor Gigi, no per chiarezza, ma signor Andrea, la 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 la, si pronto? Chi parla? Sono io, signor Andrea, lei ha un avvenire nelle giostre, la vedo, inserire un gettone, arrivederci! Grazie a tutti!